boom di nuovo miei cratosini allora no questo non è un video identico a quello precedente è il sequel del precedente video allora ci ho messo un attimino a poterlo fare anche se sto usando il montaggio del precedente nel mentre vi chiedo per favore se siete nuovi di iscrivervi al canale perché è pieno di guide sono tantissimi video ma proprio tantissimi e quindi vi chiedo di iscrivervi accendete la campanellina perché quando farò guide nuove così potrete vederle e mettete un like al video per favore allora parleremo di quello che avete appena visto in sovrimpressione allora se non mi sono fatto sentire prima è perché sono rimasto per primo ragazzi delusissimo ma proprio deluso 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 si diceva che durante il super bowl di quest'anno il 13 febbraio ci sarebbe stato letteralmente cratos secondo la sony durante il super bowl che effettivamente così è stato alla fine perché effettivamente cratos c'era ma c'era sotto un formato video nel senso che tutto ciò che si è limitato a fare sony ecco perché sono delusissimo mi aspettavo un dlc speravo almeno come minimo nell'annuncio del new game plus semplicemente c'è un video di tutti quelli che stanno capitando questi periodi in cui ci sono praticamente questi intervistatori che fanno ste cavolate in cui fanno l'intervista per dire siamo qui e c'è una playstation qua semplicemente c'è questo giornalista che dice, parla, in certo punto si vedono cratos adreus che entrano in campo fine tutto l'annuncio ci saranno cratos adreus effettivamente c'erano c'erano cratos adreus c'erano nel senso che erano lì presenti come video ma non hanno detto nient'altro una delusione incredibile ci sono rimasto per primo malissimo speravo come dicevo in qualcosa di diverso di nuovo un annuncio importante dopo infatti tutta la pubblicità che avevano fatto per questo annuncio invece niente quindi vi devo rimandare a un futuro annuncio sperando appunto che esso ci sarà e non appena ciò sarà possibile presente io ovviamente ve lo farò sapere qui su youtube e quindi per questo vi chiedo appunto iscrivetevi mettete il like al video e ci sentiamo presto